A poca distanza da Vienna si trova una zona interessante dal punto di vista geologico, perché vi sono stati constatati vasti giacimenti petroliferi e vi sono stati impiantati sonde per ottenere la nafta e i gas derivanti. In uno di questi pozzi si è recentemente prodotta una violenta eruzione di gas, la cui pressione è tale da proiettare in un diametro di circa 100 metri una colonna di fango e di sabbia. Dispositivi speciali sono stati installati per captare la massa gassosa.